Tensione sempre alta all'interno del carcere di Ragusa dopo tre episodi che si sono verificati in un breve lasso di tempo e che hanno riguardato un tentato suicidio, l'aggressione di un detenuto nei confronti di una guardia carceraria e il tentativo di due detenuti stranieri di provocarsi vistose ferite per l'impossibilità di poter lavorare dentro la struttura. Tre episodi preoccupanti che danno il segno della condizione cui si è arrivati per la mancanza innanzitutto di personale. Sono propri sindacati a battere su questo tasto, secondo i quali in cinque anni si sono persi 50 unità, un personale che a Ragusa è sottodimensionato infatti di circa il 50%, 5-6 anni fa gli agenti carcerari erano un centinaio, oggi invece sono ad una cinquantina. Le soluzioni possibili, sempre dai sindacati è partita la proposta di chiudere il carcere di Modica, chiusura che permetterebbe di utilizzare al meglio il personale in esubero. Non sarebbe forse la soluzione di tutti i problemi ma sarebbe già un passo importante, poi bisognerà muoversi una volta per tutte per cercare di migliorare alcuni servizi importanti in una struttura, quella di contata pendente, che presenta carenze anche su questo versante.